E' un brutto momento. Sto male. Sto morendo? No! Aiuto! Può dirmelo? Non può dirmelo? No, non può dirmelo se non può dirmelo. Non posso dirglielo. Mi sento solo? Sì. Ehi? Sento che sto per morire. Nient'altro? Non so cosa ho che non va e vorrei fare qualcosa di importante finché sono vivo. Sarebbe proprio il momento di farlo, sì. L'idea è di realizzare un'opera teatrale imponente. Per cosa è stato usato? Dirigibili. È perfetto. Ti ho delusa in qualche modo. Tutti deludono quando li conosci bene. Non so cosa sto facendo. Sapere di non sapere è il primo fondamentale passo per sapere, capisci? Voglio che implori un mio bacio in ginocchio. Noi dobbiamo indagare l'essenza di ogni essere. Ti ho seguito per vent'anni. Ho imparato tutto di te. Dammi la parte e scoprirai chi sei davvero. Non so perché la faccio così complicata. Perché tu sei così. Ti aiuterò in qualunque modo. Miliardi di persone al mondo e nessuna di loro è una comparsa. Ognuno è protagonista della sua storia. E noi andremo fuori e giocare. Keden? Che c'è? Quando avremo un pubblico qui? Sono passati 17 anni. Oggi torniamo a parlare di X-Men. Perché a seguito del maestoso esordio al cinema di X-Men, giorni di un futuro passato, è stato rivelato qualche dettaglio relativo al prossimo progetto, X-Men Apocalypse. Sappiamo che il film sarà focalizzato sul cast di X-Men all'inizio, ma ci sarà qualcuno del cast della trilogia originale che sarà coinvolto. Quindi, chi sarà accanto a Hugh Jackman, James McAvoy, Hal Berry, Jennifer Lawrence e Michael Fassbender? Ve lo faremo sapere presto, tranquilli. Al prossimo video, ciao a tutti.